Il digitale sta portando dei cambiamenti anche nel modo di rapportarsi con il nome stesso, per cui come dicevo, dove prima avevamo un consumer, dove prima avevamo un influencer, dove prima avevamo un sito, adesso abbiamo gli stream di contenuti, e dove prima avevamo un hypertext, abbiamo un contesto che è soprattutto quando si parla di questo, dove mi serve questa cosa. La parola mashup funziona esattamente questo, vuol dire prendere dei contenuti altrove e mashup accrocchio e metterli insieme, per cui a volte il contenuto che ti serve è altrove e tu lo prendi e lo ributi, diciamo, rimpaginato. Sempre che possibile bisogna uscire da digitale, sempre che possibile, perché la vera potenzializzazione di queste comunicazioni è nella promiscuità, diciamo, nella mescolanza, nella contaminazione. Purtroppo è anche il mercato che ancora ci richiede delle cose molto... che ragionano per compartimenti stagli, no? Perché non riuscire da questo, da questa gara, perché è un'altra del rovescio della medaglia. Io credo che le fermate degli autobus, i segni della metropolitana, la TV stessa, stanno diventando ogni volta più digitale, nel momento in cui questa trasformazione più barbarante, più la richiesta di un progetto digitale diventerà la richiesta di un progetto di comunicazione. Sto parlando di... non è domani che succederà questo, però io mi domando... Da una parte, è come dire, quando è uscito la videocassetta si diceva che il cinema sarebbe morto, quando è uscita la fotografia si diceva che la pittura era morta, e così via. Io non credo che la carta morirà mai. Quando si parla di comunicazione di senso lato, io credo che... non dico che non ci sarà la fissione, però la fissione col cuorco, sì. Sono arrivato anche a sentire nostalgia dalla carta, anche di lavorare con la carta, sono arrivato. Poi a un certo punto, non so bene perché, mi sono tranquillizzato, perché... così come... cioè il cinema esiste ancora e l'apittura esiste ancora, quindi sono delle cose che... la fotografia ha liberato la pittura di essere... ripratistica, non so come dirlo, di ritratare la realtà, è stata forse, in qualche modo, grazie alla fotografia indirettamente perché la pittura è diventata astratta, per cui è anche una liberazione per i vecchi media, non c'è un punto di vista. Secondo me la carta diventerà una cosa molto pregiata.